Il titolo dell'opera è Kiwa Mezuki, Banzuin, Chobei, gli ultimi giorni di Chobei di Banzuin, un sewa mono. Scritto da Kabuatake Mokuami e rappresentato per la prima volta nel 1882. Chobei di Banzuin era un famoso personaggio storico che prosperò durante il periodo Edo. Era un otto codate, vedi Milford, storie dell'antico Giappone, edito in Italia dall'una editrice. Egli figura in molte storie, tra cui quelle famose di Shirai Gonpachi e Nagoya Sanza. Molto potente e molto amato, aveva però molti nemici, principalmente tra i signori Atamoto e tra loro specialmente Mizuru Jurozaimon, Kondo Nobori Nosuke e Abe Shirogoro. Il primo non gli ha mai perdonato una grave impertenenza in occasione del loro primo incontro, ma non poté mai vendicarsi per molti anni. La presente opera è una specie di versione fantasiose della fine di Chobei. Gli Atamoto, termine che si può tradurre con alfiere, ma che letteralmente significa alla base dello standardo, erano i vassalli di rango più elevato nel periodo Tokugawa e vantavano la possibilità di chiedere udienza direttamente allo shogun e le famiglie Atamoto furono scelte tra quelle che furono sempre reali ai Tokugawa fin dall'inizio della loro stinastia. Mizumu Jurozaimon, noto per il suo comportamento eccentrico, era appunto un Atamoto dello shogun e nipote di Mizumu Katsunari, 1564-1651. Conosciuto anche come Tojuru o Roku Zaimon, originario di Mikawa, era figlio di Mizumu Tadashige e cugino di Ieyasu Tokugawa, dato che la madre di quest'ultimo, Oda Enochata, era la sorella maggiore del padre. Mizumu Katsunari ha sicuramente avuto una vita piena che sembra un romanzo. Fin da giovane si è distinto per il suo coraggio e valore in battaglia tra le file dei guerrieri Tokugawa, combattendo la sua prima battaglia al castello Taketenji-Jo nel 1581, vicino alla moderna città di Kakegawa, e poi contro i Takeda. Ma essendo stato giudicato come un Ichiban Yari, ovvero qualcuno che stiga i conflitti armati, dopo la battaglia di Komaki Nagakute, una serie di battaglie succeduteci nel 1584 tra Toyotomi Hideyoshi e l'alleanza Oda Nobunaga Tokugawa Ieyasu, fu diserdato dal padre e subì quello che viene detto Okukamai, ovvero la proibizione di lavorare per altre famiglie. Tuttavia, egli combatté sia per Konishi Yukinaga, Kato Kiyomasa, Sasa Narimasa e per Toyotomi Hideyoshi, ma il suo temperamento gli impedì sempre di scalare le gerarchie e lo costrinse a cambiare spesso padrone. Fu perdonato e rientrò nel suo clan nel 1598 e dopo la morte del padre, a Sekigahara, ad opera di Kaganoi Shigemochi, nel 1600 ne divenne il capo. Nel 1610 gli venne conferito il grado di quinto seggio junior e iniziò a usare il titolo di Yuga Nokami, che non significa altro che governatore di Yuga, ma era stato lo stesso titolo di Akechi Mitsuide e perciò nessun altro lo usava, divenendo poi famoso anche come lo Yuga di Yuga. Combatté anche nell'assedio di Osaka nel 1614. Fu poi nel 1619 designato da Ieyasu, che lo trattava freddamente, quale governatore di Fukuyama nella zona delle province di Bichu e Bingo. Nel 1638 partecipò anche alla soppressione della rivolta di Shimabara. Dopo la sua morte è stato divinizzato come Sobi Miojin, quale divinità della perspicacia e ha un tempio sia a Fukuyama, castello di Fukuyama, che a Ibaraki, castello Yukijou. Al castello di Fukuyama si trova anche una sua stata di bronzo, tenuta in grande considerazione dalla cittadinanza. Il suo discendente, Mizumo Juruzaimon, era a capo di una banda di samurai definiti Atamoto Yakou o Kabukimono, di quelle che spadroneggiavano Aido all'epoca e che si definivano Uomini Cavallereschi. Tra le più famose cito le bande Daijinghi, Shoujinghi, Kichiya, Tetsubo, Toke, Zarugaki e Saekirei, assieme a Miura Kojiro, Kagazume Kai no Kami e Sakabe Shashiro, tutti Atamoto, alle quali si opponevano le bande di Ronin dette Machiyako, che facevano riferimento agli otto codate, letteralmente persone con molte seguaci. Questi erano Choubei, Token Gobei, Anaregoma Shirobei, Umeno Ichirobei, Shinin no Kazaemon, Meido Kobachi e Kobotoke Kai, che hanno dato origine allo stile di Yakou, che consisteva nel radersi la barba, nel portare vestiti di cotone slavati e consumati, nel portare una spada e parlare con voce nasale e dura, detta anche voce ventricolare o voce pressata, definita Roppo Kotoba. Mizumu Jurozaemo è anche tra i personaggi di un romanzo del 1986, La lama delle cortigiane, scritto da Keichiro Ryu. Passiamo ora all'opera. Atto 1 Il teatro Murayama sulla via Neghi È in corso una recita su un palco vecchio stile, modellato sul palco no, con quattro pilastri, un tetto di tegole, un ashigakari e un gruppo di musicisti su di sul fondo. L'opera è tratta da leggende sui Genji. Il giovane Minamoto Yoriyoshi e sua moglie stanno conversando con l'abate Higashiyama Mario quando vengono interrotti dall'entrata del famoso eroe, Sakata Yogonosuke Kimpira, che fa lo spaccone, assale e picche l'abate sulla testa col suo stesso rosario. La recita è un pezzo comico del miglior tipo. Improvvisamente un servo ubriaco causa rumore nel teatro. La recita si ferma, ma riparte dopo che uno degli assistenti alla produzione lo ha buttato in strada senza tante cerimonie. Poco dopo, un servo di rango superiore della stessa casata, che si nota essere quella di Juruzaemon, entra attraversando le namici e chiede le scuse formali a spada sguainata. Gli attori si ranicchiano indietro, in particolare il rumoroso Kimpira. E il prete cade sgranando il rosario. Nessuno ha il coraggio di affrontare la lama della spada. Un plebeo, vestito modestamente, si arrampica sul palco, attraversa le namici, e con l'abilità di un allenato spadaccino, diserma l'intruso, proiettandolo al suolo e tenendolo giù. Si tratta di Chobei. Il servo, sconcertato, batte in ritirata, mormorando oscure minacce. Tra gli applausi del pubblico e i ringraziamenti degli attori, Chobei torna al suo posto, ma mentre passa di fronte a uno dei box scortinati dai quali i samurai sono soliti, seppur illegalmente ma impunemente, assistere alle spettacoli kabuki, ne cade lo schermo di bambù, rivelando un Jura Zaemon livido di rabbia che guarda torvo verso Chobei. Il teatro Murayama fu fondato nel 1634 da Murayama Matasaburo. Fu distrutto e ricostruito nel 1641 da suo figlio Kuroemon assieme a Ichimura Uzaemon III che dopo la morte del primo ne divenne il proprietario nel 1652. Divenne il più importante teatro kabuki di Edo, ma dopo l'ennesimo incendio nel 1841 il governo proibì la sua ricostruzione sul sito originario a Sakai Cho e venne edificato ad Akazuka Sarakawa Cho circa nel 1840 ma distrutto da un altro incendio nel 1932 e a quel punto non fu più ricostruito. Sakai Cho e Fukuiya Cho erano i quartieri dei teatri di Edo. Vi si trovavano il primo teatro kabuki, il Sakurawa Za, poi definito Nakamura Za e corrisponde al quartiere di Kiyobashi nella zona sud del ponte Naka dove si trova un monumento di pietra che ricorda il sito originario del teatro fondato nel 1624. Atto II Casa di Chobei a Dasakusa Alcuni giorni dopo Gli apprendisti sono seduti a Spettegolare La loro giornata lavorativa si è conclusa Uno di loro, De Chiri Seibei, racconta ciò che è successo al teatro Murayama. La moglie di Chobei, Otoki, ascolta con la pressione. Quando Chobei entra, li rimprovera per il loro vano ciarlare e li manda alle loro occupazioni. Un visitatore avanza a lungo la Namichi. E' Oshu Mushanusuke, uno degli scagnozzi di Juruzaemon. Solitamente Spavaldo, non ha stomaco per il presente incarico che implica entrare nella casa del nemico del suo padrone. Egli, comunque, viene cortesemente ricevuto e consegna il suo messaggio che consiste nell'invito di Juruzaemon a Chobei di cenare insieme la sera stessa. Pur con qualche esitazione, temendo, infatti, che l'invito cieli qualche tiro mancino, Chobei accetta. Mushanusuke se ne va, raggiante per l'apparente successo del piano. Chobei si trova in un vicolo cieco. Dopo la lezione adatta a Juruzaemon, perderebbe la faccia se rifiutasse l'invito. Deve mettere alla prova il suo coraggio. Nella casa della Tamoto, verrà ucciso a tradimento oppure ucciderà Juruzaemon. In ogni caso, la sua vita sarà finita. Sua moglie e i suoi servi, guidati dal fedele Tokiangombei, cercano di dissuaderlo. Dopotutto, nessuno dubita del suo coraggio. Perché sacrificarsi inutilmente? Ma non c'è verso. Chobei non permette a se stesso di agire al di sotto degli standards che si è imposto. E potrà uccidere un malvagio nella mischia. Si veste come per un party formale. Si è accommiata dalla moglie, dal figlio Chomatsu e dai suoi apprendisti, dicendo a Tokiangombei di mandare un feretro alla casa di Juruzaemon il giorno dopo. Poi, si incammina sulla Namichi. Atto 3 Scena 1 La camera di entrata della casa di Juruzaemon a Kojimachi. Kojimachi è un distretto di Chiyoda, Tokyo, che si è sviluppato sotto Itugugawa grazie al traffico della Kusukeido, una strada che collegava Edo al Kai. È il luogo natale di Hideaki Tojo, generale in capo delle forze armate nipponiche durante la Seconda Guerra Mondiale. I servi si stanno preparando a ricevere Chobei. Prevale un'atmosfera di nervosa iliarità. Viene mostrato Chobei e poi entra Juruzaemon. Viene offerto una coppa di vino. Viene chiesto a Chobei di mostrare alcune tecniche di scherma e di ricetta. Un servo sbadato rovescia del sacchè sui suoi abiti e gli viene offerto un bagno e un cambio di vestiti. Chobei esita alludendo che Nudo sarebbe privo di difese. Juruzaemon gli chiede a chi mai potrebbe volerlo aggredire in casa sua. Il pubblico se di quelli buoni grida il nome dell'attore che interpreta Osho. Chobei sembra non avere scampo e accetta. Il palco ruota. Scena 2 Il bagno Chobei vestito solo di un yucatà viene introdotto nel bagno dai servi e vengono fatte tutte le solite preparazioni. Di colpo appare Juruzaemon armato dei lancia. Chobei si difende con un mestolo per l'acqua. Viene assalito da una mezza dozzina di servi ma egli si libra di loro uno dopo l'altro. Infine entra Nobori no suke e lo colpisce da dietro con una spada. Vi sono alcuni riferimenti storici per questo racconto anche se sembra che la morte di Chobei sia stata meno eroica. Venne attirato nel bagno e qui imprigionato. L'acqua del bagno venne riscaldata da fuori finché egli non poteva più rimanervi. Godendo perciò della protezione data dalla vasca metallica e quando ne uscì numerose lance furono spinte attraverso le sottili pareti finché egli non riuscì più a schivarle e morì in atroce agonia. Quando Gombei arrivò giorno dopo a reclamare il cadavere del suo padrone i suoi assassini non furono di aiuto ma esprimettero ammirazione per la prova di freddo coraggio di Chobei. ChoMatsu e gli apprendisti cercavano valorosamente di vendicare Chobei ma ciò li fu negato dallo stesso traditore che caduto nelle maglie delle autorità fu costretto a fuggire e a suicidarsi in un tempio chiamato Kaneji a Ueno. Chobei di Banzui nasce nel 1622 e alcune storie dicono che fosse figlio di Oroni e che fu costretto a fuggire a dieci anni in seguito all'omicidio di un compagno di giochi portandosi dietro una spada forgiata da Raikunitoshi successivamente sarebbe entrato al servizio di un Atamoto Sakurai Shozeemon Eido dove imperò a tirare di scherma assieme al di lui figlio Shonosuke successivamente all'uccisione di un certo Ikosaka Zenpachi maestro di lancia in uno scontro per futili motivi venne arrestato ma fu rilasciato per intervento del superiore dei monaci di Banzuin presso i quali iniziò a lavorare divenuto famoso per la sua generosità e prodezza radunò attorno a sé molti giovani da ricordare che la Yakuza pretende di ispirarsi a costore quanto all'atto di scortesie al primo incontro con Jurozaemon sembra che Chobei si sia fatto trovare addormentato nudo sul posto preparato appositamente per Jurozaemon in una casa da tè storicamente la morte di Chobei dovrebbe essere avvenuta nel 1657 il termine che ho tradotto con feretro è in realtà una specie di barilotto dove venivano posti in posizione ranicchiata i corpi delle persone di umili origini nel Giappone feudale le persone benestanti si facevano seppellire in una o più casse quadrate una dentro l'altra tipo matrioska in posizione sdraiata e veniva usato il vermiglione per impedirne la decomposizione solo il 30% della popolazione quella di fede buddista veniva accremato l'opera ha ispirato anche parte del film del 1951 diretto da Daisuke Ito Five Men of Edo con il nostro corso